E' vuota la sedia che avrebbe occupato oggi Marta Nadei. Una rossa rossa, recisa come la sua giovane vita, sottolinea oltre la tristezza palpabile nell'aria il dolore che ha accumunato giornalisti e consiglieri comunali che oggi, il giorno dopo l'ultimo saluto a Marta ieri nella chiesa di Santa Margherita, si sono ritrovati in consiglio comunale. Alla giornalista poco più che trentenne, tragicamente scomparsa in seguito ad un incidente stradale in sella al suo motorino la notte tra venerdì e sabato scorso, sarà intitolata l'aula delle commissioni consigliari, quella stanza dove Marta ha trascorso ore e ore della sua vita alla ricerca di notizie con il piglio, la tenacia e la caparbietà che le appartenevano. Il sindaco Napoli, nell'accogliere la proposta del consigliere comunale Zitarosa, ha ricordato anche la recente scomparsa di Antonello Crisci, il medico deceduto in seguito alle complicanze di un intervento chirurgico e la dottoressa Giovanna Sessa della soprintendenza di Salerno. Poi ampio spazio in consiglio comunale alla discussione che come di consueto in conclusione dell'anno deve affrontare manovre finanziarie importanti senza però l'assessore al bilancio Luigi della Greca ferito da una frana la settimana scorsa mentre si trovava nella sua abitazione a Giovi. Ma il primo cittadino Vincenzo Napoli rassicura tutti, non ci saranno aumenti delle tasse per i cittadini salernitani nella manovra e soprattutto questo consiglio comunale approverà la riorganizzazione di Salerno Pulita. Salerno Pulita, abbiamo fatto un importante lavoro con le organizzazioni sindacali per fare in modo che non solo posto di lavoro andasse perso. In un'epoca in cui si chiudono fabbriche, si chiudono banche, noi tentiamo di mantenere i livelli occupazionali e credo che ci siamo riusciti chiedendo però un grande senso di responsabilità da parte dei lavoratori. Noi faremo delle verifiche periodiche per testare lo stato dell'arte, saremo esigenti ma su questo siamo tranquilli perché credo che le organizzazioni sindacali e le maestranze hanno capito che c'è un momento di grande attenzione e che devono svolgere, ciascuno deve svolgere la sua funzione con grande acribia. Va da sé che anche i miei concittadini, quella lì quota dell'intorno al 15% di irriducibili, devono fare in modo da non imbarattare la città. Noi faremo insieme a Caramano un'ulteriore azione di reistruzione per la raccolta differenziata ma c'è bisogno che nasca dall'interno delle coscienze un atteggiamento che sia compatibile con una società contemporanea, una città contemporanea che vanta grandi doti e grandi prestigio. Questo è, insomma, poi alla fine vedremo nel corso del dibattito che cosa succederà ma sono assolutamente tranquillo che le cose andranno rapidamente a buon fine. Sindaco, le tasse aumenteranno o meno? I cittadini vogliono sapere, pagheranno di più? No, non aumenteranno.